Dall'interno Torriente, Rover e Tarsi, Mattagliano, Tagliaferri, Curry, Meneghini, Franzolini e Huck Day, le protagoniste della serie più accreditata degli 800. Il record del meeting è il 2-0-2-0-4 con cui Marta Milani ha vinto qui nel 2013. No, c'è un anno, però lei è ancora piccola. Dai, 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 primo passaggio, sosteniamo le atlete. A fare l'andatura, Krishna Carri, 1-0-2-9 il passaggio, Krishna Carri che ricordiamola ha un accredito di 2-0-4. Andrea Zagler ha lanciato a 61-24 e adesso inizia il secondo turno di lanci. Secondo turno di lanci, Alessandro Sansone, 56-59 al primo turno e poi toccherà Roberto Bertolini. Attenzione, retta d'arrivo, accompagniamole con il nostro applauso sino all'arrivo. Vai Dani! Vai Dani! Vai Dani! 2-0-7-0-9 per una bravissima Joyce Mattagliano promessa dell'atletica Bruniera.